La prima certezza nella marcia di avvicinamento al primo turno della fase a gironi dei play-off è arrivata dalla giustizia sportiva. Il Foggia affronterà domenica alle 17.30 il Catania in trasferta. Il collegio di garanzia del CONI ha infatti respinto nel pomeriggio di mercoledì il ricorso degli etnei, che puntavano a vedersi cancellati due punti di penalizzazione. Azione che avrebbe permesso ai siciliani l'aggancio nella classifica del girone C di Serie C alla Juve Stabia in quinta posizione, con le vespe campane che sarebbero diventate le sfidanti dei rossoneri di Marchionni. Tutto immutato allora, con curcio e soci chiamati all'impresa domenica prossima alle pendici dell'Etna. Da regolamento infatti le squadre di casa superano il turno in caso di vittorio parità al novantesimo in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season. Non sono previsti tempi supplementari. Si riparte allora dall'avversario affrontato nell'ultimo turno di campionato con il 2-2 dello Zaccheria di domenica scorsa. C'è un rammarico diciamo di non aver comunque portato al termine con una vittoria questa partita perché si era messa nel migliore dei modi, abbiamo fatto secondo me un buona mezz'ora del primo tempo però poi purtroppo non siamo più riusciti a muovere la parla come facevamo e abbiamo trovato comunque di difficoltà. Però è pur vero che il Catania è un'ottima squadra, ci ha messo in difficoltà. Classifica chiusa a quota 51 punti, numeri difficili da immaginare all'inizio di una stagione avviata in ritardo merito di un gruppo solido e capace di impressionare in particolare nel girone di andata. Foggia è del Foggia, non di Marchioni, Foggia è dei ragazzi che si sono meritati questi benedetti 51 punti che sono tanti e è il Foggia di quelle persone che comunque purtroppo lavorano dietro le quinte che non si vedono. Sul fronte squadra oltre a Fumagalli c'è da valutare il recupero di Gavazzi in difesa, tutti necessari per preparare una speda in cui servirà solo vincere. Dobbiamo prepararci comunque che andremo a affrontare una grande squadra. Vogliamo essere, come ho sempre detto, la mina vaganti dei play-off perché credo che i ragazzi siano meritati questo.